Il vescovo ai pratesi, celebrare la Pasqua vuol dire seminare la pace nelle famiglie, le celebrazioni in programma. Le installazioni di Laura Balla colorano i fondi sfitti di via Mazzini. La storia di Lice, la prima ragazza doppiatrice con la sindrome di Down. Le iniziative in programma è lunedì dell'Angelo dai musei al mercatino di Riciclao. Una buona serata dalla nostra redazione e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Che la Pasqua e l'incontro con Cristo Risorto sia anche un'occasione per portare la pace nelle famiglie e negli ambienti in cui viviamo. Così il vescovo Giovanni Nerbini nel messaggio di aguri ai pratesi. L'intervista di Giacomo Cocchi. Eccellenza, siamo a Pasqua e ci arriviamo in un periodo segnato dalle guerre, dalla violenza. Con quale stato d'animo ci apprestiamo a vivere questa festa così importante per i cristiani e per la comunità? Beh, lo stato d'animo è quello di una tristezza di chi vede tradite tante possibilità e tante speranze per tanti uomini e donne nel mondo. C'è gente che si è ritrovata immersa in questa tragedia a sud come a nord, senza sapere niente, senza avere alcuna responsabilità. E questo è una provocazione veramente grande per tutti per chiedersi che cosa facciamo perché il mondo non sia travolto dalla furia, dalla violenza, dalla cattiveria e dall'interesse materiale. Da tempo la Diocesi di Prato sta lavorando sul progetto chiamato dei nuovi stili di vita. In particolare sta approfondendo le indicazioni di Papa Francesco contenute nell'enciclica laudato sì, dedicata al rispetto e alla cura della casa comune. È davvero possibile imprimere un cambiamento positivo attraverso i comportamenti quotidiani? Io vedo che le nuove generazioni rispetto alla mia e a quelle successive sono molto più sensibili e molto più preparate. Comeppure vedo che mai nessuna enciclica ha avuto un impatto così ampio, così grande in questo mondo dove tutti i credenti e non credenti si rifanno ad essa proprio per ipotizzare e cercare anche di costruire un futuro migliore. Che augurio si sente di fare ai Pratesi per questa Pasqua? L'augurio è che tutti gli anni ci si ripresenta questo desiderio, questo bisogno. è quello. Io vedo leggendo il Vangelo che ogni uomo e donna che ha incontrato veramente il Signore ne è uscito rinnovato completamente, che fosse l'adultera, fosse il cieco. Ecco, io credo che noi abbiamo bisogno di ritrovare l'incontro con Gesù, uscire da questo incontro rinnovati spiritualmente per uscire anche da questo modo di vita che è fatto solo di cose materiali, di oggetti da possedere e ritrovare invece stili anche di relazioni fra le persone improntate sull'amicizia, sull'accoglienza. Gesù ci ha detto io vi lascio la pace e vi do la mia pace. La sua pace è alle sue condizioni, non a quelle che il mondo propone che invece della pace portano a ben altro. Ecco, allora davvero l'augurio a tutti di incontrare il Signore e di riuscirne rinnovati e capaci ecco di ricominciare da capo soprattutto nelle relazioni con gli altri. Ieri venerdì santo la Via Crucis in centro storico, stasera la solenne veglia pasquale mentre domani si rinnova la tradizione tutta pratese con la prima ostensione dell'anno del Sacro Cingolo della Madonna. Ieri, venerdì santo, in tutte le chiese sono stati celebrati due riti. Nel pomeriggio la celebrazione della Passione Morte del Signore e a sera la Via Crucis. In centro storico si è rinnovato l'appuntamento con la tradizionale processione intorno al Castello dell'Imperatore guidata dal Vescovo Giovanni Nerbini. Le stazioni erano curate dall'Oratorio di Sant'Anna, dal gruppo Scout e dai ragazzi del Catechismo. Quest'anno il tema è stato quello delle esperienze e delle attività pastorali e di carità presenti nelle parrocchie del centro cittadino. Oggi, sabato santo, è il giorno del silenzio, della meditazione e della preghiera. A sera in ogni chiesa si celebra la solenne veglia pasquale. Monsignor Nerbini quest'anno celebra la Pasqua nella chiesa di Gesù Divino Lavoratore, dove è previsto il conferimento del battesimo, della comunione, della cresima e anche del matrimonio a una famiglia di catecumini di origine albanese. La domenica di Pasqua il Vescovo celebra la prima messa del giorno per i detenuti del carcere della Dogaia e alle 10.30 messa solenne in Duomo con benedizione papale. Alle 16.30 musiche d'organo eseguite dal canonico Marco Pratesi. Nel pomeriggio la tradizione è tutta pratese con la prima ostensione dell'anno del Sacro Cingolo della Madonna. Alle 17.30 Vespri Solenni cantati dai canonici del capitolo e a seguire l'antico rito ufficiato da Monsignor Giovanni Nerbini con la mostra della preziosa reliquia dal pulpito interno del ghirlandaio e dal pergamo di Donatello sulla piazza. Vi ricordiamo che domani alle 10.00 su TV Prato andrà in onda la Santa Messa di Pasqua in diretta dal Santuario di Loreto e alle 12.00 da Piazza San Pietro e Regina Celi. Passiamo adesso alla cronaca. È stato scarcerato e nuovamente arrestato nel giro di pochi giorni. Il protagonista è un 30 anni pratese uscito dal carcere della Dogaia qualche giorno fa dove era ristretto in attesa di giudizio per un furto dall'agosto del 2023. Il suo periodo di libertà è però durato poco. Il giovane non ha ottemperato alle disposizioni impartite dal giudice che prevedevano l'obbligo di dimora a Prato e la presentazione ai carabinieri di Iolo ed è stato sorpreso a rubare dai carabinieri di Calenzano. Violazioni che sono state segnalate all'autorità giudiziaria che ha deciso di sospendere il beneficio e di disporre nuovamente la carcerazione. Il trentenne con problemi di alcol e droga condotte che hanno probabilmente condizionato il suo percorso personale fatto di reati contro il patrimonio e atti di violenza è stato quindi nuovamente accompagnato alla Dogaia dai carabinieri di Iolo che lo hanno rintracciato in città dopo un breve periodo di irreparibilità. Parte da Via Mazzini il progetto di riqualificazione delle vie del centro promotore del progetto il comitato Io Centro. Scopriamone di più nel servizio di Diletta Bezzi. Le opere dell'artista Laura Balla colorano Via Mazzini. Si tratta di installazione murale realizzati proprio sui fondi sfitti di Via Mazzini un progetto di rivalutazione estetica che vede la collaborazione del comitato Io Centro. Una sinergia tra artisti, commercianti e residenti per cercare di riqualificare le vie del cuore della città. Lavoro da 20-22 anni ormai in questa strada e mi piaceva farla rifiorire e perciò sono partita lavorando con gli elementi dei coni tessili sulle serrande cercando di rivalorizzare un po' gli spazi anche vuoti. Creare delle installazioni in collaborazione insieme ad Alberto Tognetti con questi coni e magari far fare disegni anche da altri artisti infatti era intervenuto anche Eduardo Nardin. E poi è venuta l'idea di creare una galleria a cielo aperto ovvero di continuare a valorizzare gli spazi chiusi cioè le serrande con dipinti e perciò grazie al permesso di Manuela Maragno ho cominciato con il primo dipinto sulla serranda al numero 20. L'arte è come segno di rinascita da qui la richiesta del comitato Io Centro ai proprietari dei fondi sfitti della città affinché questi possano ritrovare una loro funzione e tornare a far parte della vita del centro. Riguarda la riqualificazione di tutto il centro storico noi vorremmo portare un'ondata di novità, di decoro, di bellezza di rivalutazione di quelli che purtroppo sono una delle condizioni critiche come ad esempio i fondi vuoti, i fondi sfitti della città che apparentemente raccontano una storia triste di abbandono ma grazie a chi come Laura crede nel poter fare qualcosa anche di diverso e vedere le cose forse anche con una prospettiva nuova questi fondi verranno da noi insieme a Laura insieme forse anche ad altri artisti se riusciremo a coinvolgerli rivalutati, riqualificati dando loro una nuova immagine, una nuova veste cioè far trasmettere una bellezza attraverso questa chiusura far vedere che è possibile ripartire, andare avanti accendere un faro far vedere che questi posti ci sono, esistono e che aspettano nuove attività. È ora di bilanci per il sindaco Matteo Biffoni che si avvia a chiudere il secondo mandato da primo cittadino di Prato Biffoni e gli assessori della Giunta incontreranno la città martedì 2 aprile alle ore 21 al Teatro Metastasio per una serata di bilancio dell'attività svolta e saluto ai cittadini sarà un modo per ripercorrere insieme a tutti coloro che vorranno essere presenti quello che ha fatto la nostra città tutta insieme, afferma Biffoni l'accesso al teatro è libero e senza prenotazione inoltre da mercoledì 3 aprile in città sarà possibile ritirare gratuitamente la pubblicazione di sintesi del bilancio di mandato presso le edicole del territorio la pubblicazione sarà distribuita anche presso i principali uffici comunali sul sito del Comune di Prato è possibile trovare tutto il materiale relativo alla relazione di fine mandato Priorità alle frazioni continua la campagna di ascolto del candidato sindaco di centrodestra Gianni Cenni ieri tappa a tavola, oggi ai Ciliani Ascoltare la voce delle frazioni è una delle priorità del candidato sindaco di centrodestra Gianni Cenni che ieri ha fatto tappa nella zona di tavola mentre oggi è stato ai Ciliani dai residenti di tavola è arrivata in particolare la richiesta di interventi per la messa in sicurezza del tratto finale di via Braga e la realizzazione di nuovi parcheggi l'incontro con gli abitanti del Sacro Cuore dei Ciliani si è focalizzato invece sui temi della lotta al degrado controllo del territorio e cura dei giardini ho anche la netta sensazione che ci sia stato poco ascolto rispetto a quelle che sono le esigenze dei cittadini e magari devo dire che io in queste mie prime uscite ho dato qualche idea e qualche spunto è noto anche con piacere se in maniera forse un po' tardiva e un po' diciamo come rimedio elettorale qualcuno trae spunto da queste mie diciamo idee ad esempio avevo fatto una proposta antidegrado ho letto che Ale ha messo a punto una squadra per le emergenze così come avevo suggerito io in realtà gli avevo suggerito una squadra integrata Chiare le proposte di Cenni per le frazioni della città Prato è la città delle frazioni le quali hanno una loro identità una loro dignità e soprattutto la popolazione delle frazioni è molto legata alla sua appartenenza diciamo geografica quindi a mio avviso bisogna mantenere una sorta di osservatorio costante anche in rapporto con quelle che sono le organizzazioni dei cittadini più o meno in comitati più o meno in associazioni territoriali per mantenere vivo il contatto e per a mio avviso intervenire per tempo prima che i problemi da problemi di ordinaria manutenzione o problemi che comunque tu puoi risolvere con una certa velocità debba un po' diventare dei problemi strutturali dove magari è più difficile intervenire Alice è la prima ragazza doppiatrice con sindrome di Down ha prestato la sua voce alla protagonista del cartone animato spagnolo Valentina e noi siamo andati a conoscerla Cuffia agli orecchi, tempi scanditi e tanta voglia di mettersi in gioco la pratesi Alice Gennaro è la prima doppiatrice italiana con sindrome di Down e sta facendo parlare di sé in tutta Italia ha prestato la voce al cartone animato spagnolo Valentina la protagonista come lei affetta dalla stessa sindrome e con questa attività ha lanciato un messaggio semplice ma potentissimo accettando le proprie difficoltà tutti possono fare tutto Il cartone animato è distribuito in esclusiva da 8,5 e Lilium Distribution ed è stato presentato a Roma il 21 marzo in occasione della giornata mondiale della sindrome di Down Valentina che dà il nome al cartoon vuole fare la trapezista e ha paura di non riuscire a realizzare il suo sogno ma grazie alla sua tenacia ci riuscirà Alice nel darle la voce è stata affiancata dalla direttrice del doppiaggio per la Liberatori Com'è stata questa esperienza da doppiatrice? È stato difficile? No, è stato facile passare al copione La ragazza di Valentina è brava, è gioiosa e è anche molta forza Cosa ti è piaciuto di Valentina? Il suo coraggio Abbiamo risposto a una richiesta di casting da parte dell'Associazione Italiana a persone Down nazionali l'IPD e noi a Prato abbiamo la sezione appunto l'IPD sezione di Prato hanno diffuso questa richiesta di disponibilità di una ragazza intraprendente che avesse avuto delle esperienze di laboratorio teatrale e che avesse voglia di in qualche modo divertirsi e fare un'esperienza di doppiaggio quindi Alice ha letto un testo e abbiamo semplicemente mandato un vocale registrato un Whatsapp, mandato all'azienda di casting e è stata scelta fra tante altre ragazze Dopo quel primo provino mandato via Whatsapp Alice è stata scelta per il ruolo di doppiatrice ed è cominciata l'avventura che l'ha portata a Roma in una sala di registrazione tutti i giorni dal 26 febbraio al 1 marzo Alice ha 20 anni e frequenta l'ultimo anno di grafica dell'Istituto Tecnico Professionale Marconi di Prato è una grande appassionata di vestiti, di serie tv e adesso anche di doppiaggio che non le dispiacerebbe far diventare una professione in futuro per lei dare voce al personaggio di Valentina con la spontaneità e la naturalezza con cui l'ha fatto non è stata un'esperienza fine a se stessa ma un modo per dire al mondo sono come voi, questa è la mia normalità Per la sua famiglia è stata l'occasione per pensare una volta di più al dopo e ai progetti che possono aiutare oggi i ragazzi con disabilità ad essere sempre più autonomi domani Stiamo cercando, anche il comune ci sta dando la disponibilità sta cercando a noi un luogo, semplicemente uno spazio dove svolgere l'attività quindi l'appello diretto è e ci rivolgiamo a privati, circoli, associazioni che ci possono condividere uno spazio in cui organizzare degli weekend di residenzialità Io non sono affetta della serie meditano sono una ragazza normale con il cromosoma in più Che cosa vuoi dire anche alle altre ragazze con il cromosoma in più? Essere noi stessi Ecco adesso una guida alle iniziative e alle opportunità per chi resta in città il lunedì dell'angelo Lunedì dell'angelo all'insegna dell'arte e della cultura ma non solo sono molte le opportunità per trascorrere la Pasquetta in città Ecco quindi l'iniziativa in programma Partiamo dai musei della rete Prato Musei che comprende i musei di Ocesani il centro per l'arte contemporanea Lugipeci il museo di Palazzo Pretorio e il museo del tessuto I musei di Ocesani in particolare saranno aperti lunedì primo aprile il pomeriggio a partire dalle ore 13 fino alle ore 17 Il Pretorio invece per l'intera giornata dalle 10.30 alle 18.30 l'ultimo ingresso è previsto per le ore 18 Restando in centro storico il museo del tessuto farà orario continuato dalle 10 alle 19 Infine il centro per l'arte contemporanea Lugipeci sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 19 Spostandoci in provincia nel comune di Carmignano lunedì primo aprile sarà possibile visitare il principesco tumulo etrusco di Montefortini di via Garibaldi a Comeana la collinetta artificiale che ospita due tombe etrusche sarà visitabile gratuitamente dalle 9.30 alle 12.30 Tra gli appuntamenti da segnalare si ricorda che fino a Pasquetta prosegue al mercato coperto di via Umberto Giordano Riciclao il tradizionale mercatino dell'usato promosso e organizzato dall'operazione Mato Grosso e sostenuto dall'amministrazione pratese da tutti i comuni della provincia Il ricavato andrà a sostegno delle missioni portate avanti dall'OMG in America Latina È stata riaperta al pubblico dopo il restauro la grotta degli animali nel giardino della Villa Medicea di Castello L'intervento è reso possibile grazie anche al contributo di Publiacqua Proprio in coincidenza con l'anniversario dei 450 anni dalla morte del Gran Duca di Toscana Cosimo I de Medici e di Giorgio Vasari sono terminati i lavori di restauro della grotta degli animali del giardino della Villa Medicea di Castello che il Duca commissionò al Tribolo a partire dal 1539 che lo stesso Vasari proseguì dopo la sua morte Il complesso intervento, durato diversi anni ha visto la collaborazione e l'impegno di numerosi partner istituzionali e il sostegno di mecenati tramite Art Bonus Un importante contributo economico per il restauro è arrivato da Publiacqua Publiacqua è impegnata negli ultimi anni ha investito quasi un milione sul recupero di questi tesori e di questi beni architettonici della nostra comunità nella città di Prata città di Firenze è un dovere da parte delle aziende pubbliche contribuire al recupero e alla valorizzazione dei nostri beni architettonici Abbiamo la responsabilità in parte del modo quando specialmente anche la Regione insieme allo Stato mettano a disposizione delle risorse da investire sulle nostre all'interno delle nostre comunità Già nell'aperture festive di Pasqua i visitatori potranno ammirare le superfici originali dei marmi delle vasche dei singoli animali delle pietre multicolore consolidate e ripulite da dei posti che ne offuscavano la brillantezza cromatica Torna l'ora legale questa notte le lancette degli orologi dovranno essere spostate in avanti di un'ora come effetto si dormirà dunque un'ora di meno beneficiando però di 60 minuti in più di luce l'ora legale resterà in vigore fino al 27 ottobre quando si tornerà all'ora solare e con questo è tutto ma restate con noi per le anticipazioni dei programmi della serata grazie a tutti voi per averci seguito e tanti auguri di buona Pasqua da tutta TV Prato arrivederci